Abbiamo il biglietto. Oggi siamo qui, siamo una squadra dei controllori ATAC partendo da Termini per lanciare la nuova campagna che ATAC ha avviato per intensificare i controlli su chi non paga i biglietti sui bus. Questa campagna prevede dei controlli massicci intensificati su una serie di linee qui in città, sia portanti a livello centrale sia anche a livello periferico. Quello che noi vogliamo è che tutti i cittadini paghino il biglietto e che quindi il pagamento del biglietto sia anche una forma di rispetto per questa città. Ricordatevi sempre che chi non paga il biglietto è la persona che automaticamente sta danneggiando tutte le persone che invece onestamente sono dotate di biglietto, sono dotate di abbonamento, nonché anche danneggiano l'azienda e la sua possibilità anche di avere ricavi per fare nuovi investimenti, per comprare nuovi autobus. Mi informano che da questa mattina fino ad ora i controlli sono stati molti e ci sono state anche una rilevazione di una serie di multe, l'obiettivo di questa azione si inserisce nel più grande obiettivo di questa amministrazione di riportare l'azienda a funzionare come un'azienda normale, come un'azienda che è capace progressivamente nel corso del tempo di autosostenersi, ma di offrire anche dei servizi progressivamente migliori. Per tutto questo serve anche il vostro aiuto.